Bene amici, ancora una volta assieme in questa fantastica puntata per la settimana della cucina italiana nel mondo da Varzavia a Noelo Serra per l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura di Varzavia. Oggi vi presento nell'ambito dei dolci un qualcosa di goloso e tecnicamente anche sano. Perché? Perché parliamo di frutta con una crema alla stracciatella, una crema fatta con del latte, con della stracciatella, dello zucchero, un amido in modo tale che possa essere mangiata anche dai celiaci, dai nostri amici celiaci e quindi vi parlavo di amido, vi parlavo di zucchero, vi parlavo di latte e di uova. Quindi abbiamo fatto così la crema e dell'acqua di mare per dare un pizzico di sapidità a questo piatto. Viene accompagnata con uno yogurt, frutta, yogurt, crema a base stracciatella e poi ci saranno delle frutta secca per dare dei crunch, per dare dei contrasti. Quindi iniziamo subito. Questo è il nostro piatto. Ok, quindi questo è il nostro piatto, come vi dice. Prendiamo subito lo yogurt e cominciamo a sporcare il piatto, come da bambini, come quando si giocava con il pongo, si sporca il piatto. Ecco qua. E abbiamo sporcato il piatto, c'è l'alcol di un goduria. Ebbene, come frutta lo opereremo. Mango, avogado, frutti di bosco, kiwi e il caco. E poi chiuderemo anche con della mela del trentino che abbiamo disidratato, pistacchi, cioccolato crunch. Insomma, cose un po' simpatiche. Ok? Prima posizione, il nostro mango. Ecco qua, la nostra bistecca di mango. Mettiamola qua, la prepariamo, la filiamo. Mettiamo questa bella bistecca di mango sul piatto. La facciamo seguire da dell'altro yogurt. Mettiamo dell'avogado, del pistacchio all'interno che ci dà il crunch. Ok? Adesso cosa facciamo? Prendiamo la nostra crema che abbiamo fatto, base stracciatella, bella cremosa. La mettiamo in un sac a poche. Andiamo a fare degli spuntoni. Ecco qua, il nostro kiwi. Mettiamo dei petali di azzurro. Qui sono dei petali cristallizzati, base azzurro. E del croccante che viene dato da questo cioccolato. E io direi, amici, che siamo arrivati. Possiamo anche mettere, se vogliamo fare... Ah, la nostra mela. Il nostro caco, che ci dà un colore bellissimo, è un gusto spettacolare. Lo mettiamo qua. Mettiamo un altro pezzo del nostro caco. Possiamo ancora aggiungere un punto di yogurt, sul quale andiamo a metterci del pistacchio. E bene. E amici, un piatto semplice, goloso, gustoso, sano, per la settimana della Cucina Italiana del Mondo. Da Anuelo Serra, la tagliata con crema a base stracciatella. Tagliata di frutta, crema stracciatella. Dosofacenia! Bye bye! Grazie a tutti!